buongiorno a tutti benvenuti su investire.biz e ben ritrovati anche quest'oggi alla rubrica caffè mercati un saluto come sempre da riccardo zaga andiamo a fare un attimo il recap della settimana delle varie operazioni che abbiamo portato avanti molto interessante la sessione di trading con ichimaco più pre-section di ieri abbiamo aperto delle posizioni ribassiste su euro dollaro anche insieme ad andrea che è intervenuto uno chiaramente dei tanti che ci segue all'interno delle sessioni ci ha fatto fare un'interessantissima operazione al ribasso sul 5 minuti su euro dollaro che è andata target quindi complimenti anche ad andrea però quello che voglio vedere quest'oggi è sia euro dollaro ma anche il dax e poi andiamo a vedere anche la cripto valuta bitcoin detto ciò andiamo subito sul sul sito per per andare a vedere quali sono gli appuntamenti della prossima settimana abbiamo già messo online chiaramente il webinar del lunedì quindi potete come sempre iscrivervi scusate dalla sezione appuntamenti del sito eccoci qui vi aspettiamo come sempre a uno dei webinar più importanti della settimana detto ciò però andiamo subito sulla piattaforma del broker kimura trading per capire che sta succedendo qui su bitcoin allora siamo sul grafico a time frame orario quindi una candela un'ora di contrattazione come possiamo vedere da questo grafico siamo sostanzialmente all'interno di questo trend laterale che però dobbiamo comunque constatare che ha dei minimi via via decrescenti questi sono sempre gli stessi in area 58.760 però vedete che piano piano il bitcoin continua a rimanere sulla parte bassa di questo ampio canale quindi io direi di fare molta attenzione di fare molta attenzione perché una rottura del livello di 56.000 sul time frame orario con forza potrebbe aprire la strada a nuovi ribassi quindi attenzione a comprare da 56.000 io preferirei invece vendere alla rottura per parlare invece di posizioni rialziste sulla criptovaluta per eccellenza valuterei un long ma solamente alla rottura dei 57.000 barra 57.200 ricordiamo che queste sono comunque analisi prettamente tecniche che nulla hanno a che vedere con l'analisi fondamentale delle criptovalute che rimane comunque un aspetto molto importante però se si parla di trading online soprattutto su bitcoin è interessante andare a fare un po di trading proprio perché a livello tecnico i livelli funzionano veramente molto bene quindi occhio a bitcoin supporto 56.000 resistenza 57 alla rottura valuteremo di operare long oppure short andiamo avanti però perché dobbiamo per forza andare a vedere l'indice S&P 500 siamo posizionati long da questo livello abbiamo aperto un trade long ieri in diretta su in diretta alla sessione di trading con in cimoco più price action vediamo fino a dove può arrivare il buon S&P 500 allora vado a tracciare quelli che secondo me sono i target più importanti andando a prendere in considerazione questo minimo questo massimo e quest'altro minimo quindi l'impulso e il ritracciamento come possiamo notare qui abbiamo un abbiamo già raggiunto il primo target e per questo abbiamo spostato lo stop loss in pareggio abbiamo un obiettivo finale in area 4640 dollari quindi se oggi gli indici salgono anche chiaramente S&P 500 salirà e spero lo faccia con forza chiuderemo il tutto a 4640 4635 abbiamo invece chiuso il trade aperto sempre ieri in diretta la sessione di trading con in cimoco più price action per questo vi dico che è importante partecipare alle sessioni andiamo a vedere il deal ve lo faccio vedere abbiamo aperto quindi ieri un long qui in diretta a 15.260 chiuso questa mattina 15.400 15.390 però andiamo a vedere cosa sta succedendo all'interno sul scusate sull'indice tedesco dax 40 prendiamo il time frame giornaliero e andiamo ad aggiungere anche l'indicatore cimoco ed ecco quindi che abbiamo chiuso la posizione rialzista qui sulla cumo perché come potete vedere questo livello è importantissimo direi infatti di fare molta molta attenzione 15.400 è una resistenza fin quando i prezzi non torneranno al di sopra non aprirò trade long multi day ma solamente insomma dei piccoli trade di brevissimo termine come abbiamo visto anche ieri alla sessione per quanto invece riguarda la zona supportiva la troviamo qui in area 15.050 15.100 lo stesso livello di 15.000 è sicuramente importante anche sotto il profilo psicologico andiamo a chiudere la rubrica di quest'oggi con come dicevo le operazioni su euro dollaro una l'abbiamo già chiusa a target e ne abbiamo lasciata aperta un'altra esposizione abbastanza bassa possiamo anche valutare di incrementare comunque siamo short su euro dollaro abbiamo una abbiamo tracciato un impulso e ritracciamento del genere e attenzione ragazzi perché qualora il dollaro dovesse continuare ad apprezzarsi io vedo un euro usd in area 1 e 10 noi siamo già in posizione e una parte l'abbiamo già chiusa perché ieri alla sessione dei trading con cui dicevo più pre session come dicevo prima andrei intervenuto ci ha fatto fare un bellissimo trade sul 5 minuti l'altro trade lo lasciamo correre e anzi si può anche valutare di incrementare le posizioni view short su euro dollaro vedremo per oggi come reagirà proprio su questo minimo lo vedete qui è molto importante in area eccolo qui 1 12 83 se questo minimo se questa zona viene rotta in chiusura daily è probabile che poi andremo a rivedere i minimi precedenti dove andremo a spostare poi anche lo stop loss in pareggio ragazzi sono andato avanti anche troppo quest'oggi spero che questa analisi vi sia stata utile io auguro una buona giornata un buon trading a tutti ci vediamo all'interno del gruppo traders club ciao 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 ciao